Vi auguro la buonanotte con questo messaggio, guaritore di emozione. È il momento di permettere al tuo cuore di sentire appieno le emozioni. È possibile che tu ti senta così in dovere di provvedere agli altri da dimenticare te stesso. Intuizioni improvvise ti condurranno incredibili scoperte. Tu o qualcuno che ti sta vicino, sei un amico gentile, sensibile, amorevole e degno di fiducia. Sei chiamato a immergerti nelle acque dell'emozione e dell'intuizione. Senti un desiderio autentico di aiutare gli altri e sei benedetto dei sentimenti profondi che ti vengono spontanei. La compassione fluisce dallo Spirito Divino al tuo cuore. Sembra che tu sappia subito cosa provano gli altri e di cosa ha bisogno il loro cuore. Familiari e amici si sentono amati, ma anche gli estranei percepiscono l'amore che irradi per guarire il mondo. Le tue capacità di intuizione sono molto forti. Una persona con le braccia sempre aperte e pieno d'amore. Qualcuno sensibile e molto empatico. Nel cuore tenero e generoso. Qualcuno che sa sempre cosa fare e capisce il problema prima che venga espresso. Una fata madrina capace di farti sentire meglio con la sua sola presenza. Ulteriori significati di questa carta sono Maestro spirituale, consigliere in campo emotivo, bisogno di confini più chiari, amore per il focolare domestico, un amico su cui contare. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte.